Ciao a tutti, oggi vi mostro una cover per l'iPhone che possiamo definirla multitasking, veramente molto interessante la cover, molto interessante per quanto riguarda iPhone 3G Pro Max però vi dico che ci sono anche per altre iPhone o per altre smartphone mi lascio comunque qua sotto in descrizione il link e questo qua praticamente, questo qua è una cover per il mio, naturalmente, il mio iPhone 3G Pro Max quello è il bello, tessuto, finta pelle dietro, quindi veramente molto bello touch and feel bordi in plastica, in silicone, quindi veramente molto facile da installare c'è una notificazione per le cadute a livello militare quindi dovrebbe essere abbastanza sicuro per quanto riguarda le cadute anche se io non l'ho provato perché non ci tengo il bello qua è che praticamente abbiamo uno standino magnetico che voi potrete mettere al telefono sia in questo modo, quindi posarlo sul tavolo e utilizzarlo così sia metterlo in questo modo qua, quindi per poter visionare i vostri contenuti multimediali oltre a questo, a parte che è sottilissimo, quindi non ingombra assolutamente non aumenta il volume del vostro smartphone avete anche dietro un bel magnete per poter agganciare a dispositivi MagSafe al vostro iPhone quindi veramente cover super, hyper interessante e veramente fatta molto molto bene per quanto riguarda iPhone quindi domani resta va bene vado va bene va bene va bene va bene Grazie.